Sakuri, come posso diventare anche io come te un'insegnante in Norvegia? Ciao Ceris, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Sakuri e oggi finalmente vi sto registrando un video che mi avete chiesto, non so neanche più quanto tempo fa, vi chiedo perdono in ginocchio, veramente. Prima di cominciare a darvi tutte le informazioni che vi interessano, io vi chiedo come sempre se vi va di supportarmi iscrivendovi al mio canale, di lasciare un mi piace se questo video non vi fa schifo, di lasciarmi un commento se avete per caso qualche domanda, qualche curiosità, se vi interessa approfondire l'argomento o semplicemente se volete lasciarmi un feedback rispetto a questo video. Se vi va potete attivare la campanellina per ricevere le notifiche quando pubblico un video e qui sotto nell'info box trovate il link al mio canale Telegram, alla mia pagina Facebook e alla mia pagina Instagram se per caso mi volete seguire anche lì. Come già sapete io da qualche anno lavoro in Norvegia come insegnante di lingue straniere sia in una scuola media che in una scuola superiore e una delle domande che mi fate più spesso è proprio questa, come posso diventare un insegnante in Norvegia? Il processo di selezione è più semplice e più snello rispetto all'Italia, infatti si viene assunti più o meno come si viene assunti in qualsiasi altro lavoro, cioè il datore di lavoro che può essere direttamente la scuola o il comune o la regione pubblica un annuncio di lavoro. Questi annunci li potete trovare sulle pagine che vi menziono spesso nei miei video per trovare lavoro, jobnorg.no e fin.no, queste sono le principali. Se avete accesso alla pagina del NAV potete cercare anche su nav.no nella sezione lavori. Avete accesso a questa sezione del NAV se già siete residenti in Norvegia e avete l'IDINUMER o il DINUMER. Il NAV è l'equivalente norvegese dell'INPS italiano, potremmo dire. Quindi trovate un annuncio di lavoro, se rispondete alle caratteristiche richieste potete inviare il curriculum, potete inviare una mail con il vostro curriculum e una lettera di presentazione. In alcuni casi sono richieste anche direttamente nella mail di candidatura le referenze, può essere altrimenti che vi vengano chieste più avanti in fase di colloquio o prima del colloquio, può essere che non vi vengano richieste proprio. Un altro requisito molto importante per lavorare nelle scuole norvegesi, anche se lavorate come insegnante di lingue straniere e quindi in teoria il norvegese in classe non lo dovreste parlare, nella realtà dei fatti poi non è mai così. Un altro requisito importante è quello di una buona conoscenza del norvegese sia scritto che parlato e questo è menzionato praticamente in tutti gli annunci di lavoro che ho visto. Normalmente la scuola, o almeno nel mio caso e nel caso di altre persone che conosco che lavorano in Norvegia, in diverse zone come insegnanti, non viene richiesto un attestato che attesti la vostra conoscenza, il vostro livello di conoscenza del norvegese. Però questo è di iscrizione del datore di lavoro, molti testano la vostra conoscenza del norvegese in fase di colloquio, altri invece potrebbero richiedere questo attestato. Molto molto importante per lavorare in Norvegia come insegnante è l'aver conseguito una laurea. Se siete così fortunati di aver conseguito il vostro titolo di studio in Norvegia, tutto liscio, non vi dovete preoccupare di nulla. Se invece avete conseguito una laurea in Italia o in un altro paese che non sia la Norvegia, dovete far riconoscere il vostro titolo di studio da un ente norvegese che si chiama NOKUT. Potete tranquillamente andare sul loro sito, nokut.no, ve lo scrivo qua, me lo lascio anche sotto nell'info box, vi lascio il link del sito. Andate sul sito e seguite tutte le istruzioni dove sono indicati i documenti che dovete inviare per farvi riconoscere il titolo di studio. Non è un processo complicato, non servono molti documenti, ma richiede un tot di tempo. Normalmente il tempo varia tra i due e i quattro mesi, ma mettete in conto che potrebbe volerci anche un po' di più. Quindi se avete molta fretta di presentare questi documenti al vostro datore di lavoro, o per esempio avete deciso di venire a lavorare in Norvegia come insegnanti e ancora non avete contatti o un accordo o un contratto di lavoro con nessuno, Io vi consiglio di muovervi in anticipo e cominciare ad inviare questi documenti, tanto il tutto è gratuito, quindi non vi costa nulla, semplicemente dovete aspettare un po' di tempo, ma secondo me è meglio prepararsi in anticipo. Il documento di fondamentale importanza se volete lavorare in una scuola in Norvegia è quello che si chiama Politiattest. Che cos'è il Politiattest? È l'equivalente norvegese del nostro casellario giudiziale italiano. Quindi dovete richiedere alla polizia questo documento e consegnarlo alla scuola prima di iniziare a lavorare. Come si fa a richiedere questo documento? Se avete l'identità digitale norvegese, quindi il di numero o il di numer, potete farlo online dal sito della polizia e nel giro di 15 giorni lavorativi all'incirca vi arriva nella mail. Altrimenti se non avete ancora ottenuto il di numer o il di numer, dovete farlo tramite posta normale e questo normalmente richiede del tempo in più. Attenzione perché anche se voi non vivete ancora in Norvegia, vi siete trasferiti da poco e ovviamente non avete commesso crimini in Norvegia, ovviamente sul vostro Politiattest ci sarà scritto che non avete fatto nulla di male, lo dovete richiedere solo in Norvegia, non dovete presentare quello italiano. O almeno così era quando l'ho richiesto io, però le cose qua cambiano nel giro di 5 minuti, però in teoria fino ad adesso è così. Che tipo di istruzione è richiesta per diventare insegnante in Norvegia? Cioè che cosa dovete studiare in Norvegia o in Italia per poter lavorare come insegnante in Norvegia? Molto semplicemente per farla breve vi dirò che sono necessari sempre e comunque dei crediti in pedagogia. Quindi qualsiasi università voi abbiate fatto in Italia o in Norvegia, se volete lavorare come insegnante dovete aver conseguito 60 crediti come minimo in pedagogia. In più, per insegnare in alcuni tipi di scuole, cioè scuole in un certo grado, è necessario anche avere un tot di crediti nella propria materia di insegnamento. Questo ha grandi linee. Per insegnare negli asili, che può essere asilo o asilo nido, perché come vi avevo spiegato nel video sulla scuola norvegese, che vi linko qui in alto, l'asilo in Norvegia inizia quando il bambino ha un anno e si conclude quando ha 5-6 anni, quindi appena prima di andare alle scuole elementari. Quindi per diventare insegnante di asilo, si chiamano Barnehage Lader, è necessario aver conseguito un totale di 180 crediti universitari, di cui normalmente 60 sono in pedagogia. Io mi sono scritta tutto, così sono sicura di non dimenticare nulla e di darvi informazioni sbagliate. Quindi per diventare insegnante d'asilo, basta aver conseguito l'equivalente della nostra laurea triennale. In norvegese si chiama bachelor grad. Ci sono, ad esempio, se frequentate quest'università in Norvegia, sono presenti alcune materie, tra cui pedagogia norvegese, scienze, matematica, musica, ginnastica, insomma un po' di materie diverse. Diverso è se volete insegnare alle scuole elementari. Insegnante di scuole elementari, in norvegese si dice Barnehage Lader, in questo caso dovete aver conseguito l'equivalente della nostra laurea specialistica. In norvegese si chiama master grad e dura appunto 5 anni, così come la nostra specialistica. Quindi sono un totale di 300 crediti universitari. Anche in questo caso saranno obbligatori questi crediti di pedagogia, che se frequentate l'università in Norvegia magari potranno anche essere di più di 60, a seconda del percorso dell'università che scegliete. E poi saranno obbligatori alcuni crediti nelle materie che voi avete scelto di insegnare. Potrà essere norvegese, matematica, inglese, piuttosto che scienze, musica, arte, quello che volete. Ricordate che se frequentate la scuola, l'università in Norvegia, è sempre obbligatorio il tirocinio. Quindi il tirocinio è compreso in questi crediti di cui vi sto parlando. Passiamo invece a quello che viene definito Grünskule Lader. Praticamente in questo caso si parla di Mellum Trin e Undumskule. Quindi le classi 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi gli ultimi anni della scuola elementare, gli ultimi tre anni della scuola elementare e i tre anni della scuola media. Anche in questo caso è obbligatorio un percorso di cinque anni, quindi aver conseguito un Master Grad. Quindi l'equivalente della nostra laurea specialistica. Ci saranno sempre i crediti di pedagogia e i crediti nella propria materia di insegnamento. E sempre, anche in questo caso, il tirocinio. L'ultimo tipo di percorso universitario invece è quello per conseguire il grado di Lecture. Quindi quell'insegnante che può insegnare alle scuole medie norvegesi e alle scuole superiori. Quindi nelle classi 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 8, 9 e 10 sono le medie e 11, 12 e 13 sono le scuole superiori. Qui è lo stesso percorso praticamente dei due precedenti che vi avevo detto. Quindi sono necessari 300 crediti, quindi un Master Grad, 5 anni di studio in università. Si scelgono due materie, quindi ci saranno anche dei crediti obbligatori in queste materie e il tirocinio. Tutto ciò se per caso intendete studiare in Norvegia. Se invece, come me, avete conseguito una laurea triennale o specialistica, come nel mio caso, in Italia, io avendo conseguito la laurea specialistica, potevo scegliere se insegnare alle elementari o alle medie o alle superiori o anche dappertutto. Come vi ho detto, insegno sia alle medie che alle superiori. Quindi il mio grado di insegnamento è quello di Lecture. Non è stato così semplice, però, perché io avevo questi 300 crediti universitari e di cui alcuni crediti di insegnamento nella mia materia, ma mi mancavano i 60 crediti di pedagogia. Che cosa è successo in questo caso? Che io sono stata comunque assunta a lavorare in entrambe le scuole, ma non con un contratto a tempo indeterminato. Sono stata assunta solamente come Vicar. Che cos'è un Vicar? È il supplente. Per cui io non ho la possibilità di venire assunta a tempo indeterminato e percepisco uno stipendio inferiore a chi invece ha il grado di Lecture. Che cosa mi manca per ottenere il grado di Lecture? Questi 60 crediti in pedagogia. Che conseguirò qui in Norvegia, in un'università norvegese, con un programma universitario che vi spiegherò in un altro video, così vi spiego bene come ci si iscrive in un'università norvegese, quali sono i costi, quali sono i documenti che vi servono, qual è il percorso universitario, eccetera, eccetera. Se vi interessa, io nel frattempo sto pubblicando dei vlog, degli incontri che ho in università, ve ne linko uno qui in alto nell'angolino, così potete già cominciare a capire più o meno come funziona. Credo di avervi dato tutte le informazioni necessarie, come vi avevo detto all'inizio del video, potete tranquillamente scrivermi un commento qui sotto, sarò ben lieta di rispondervi per iscritto, se ci sono molte domande, magari in un altro video. Vi ringrazio per aver guardato questo video, ci vediamo prossimamente, un grosso bacione, un in bocca al lupo a tutti quelli che vogliono diventare insegnanti in Norvegia. Ciao ciao ragazzi!